Scena 3.12.1. Prima! Manu, non ti abbiamo ancora ripreso! Buona polpetta! Jack! Jack, ti prego! Non me lo pirolla! Ti salvo io! No, cioè, Alessia, questo non va bene, chiaro? Io me ne voglio uscire dalla casa. Ciao, suona, che timido! Ti vado a confessarti! Wow, che operatrice! Un'altra difficoltà è che spesso ci si avvicina a un orario in cui si fa abbastanza caldo, capito? E quindi la prestanza degli attori deve essere superiore da quella della norma. È una scena molto difficile, quindi, vabbè, niente, speriamo che venga fuori bene. No, io sono estremamente timido, davanti alla telecamera mi imbalazzo. Veramente? Noi aspetti che vogliamo. Aspetti che vogliamo un po' di tutti. Ci viene benissimo, tra l'altro. Strano. Stiamo cambiando un bel po' di cose, per prendermi di luce, comunque dai, va tutto bene e è molto professionale il lavoro. Madame Arianna. L'ho già fatto vedere. Sono diventato operatore, direttore della fotografia, sono diventato operatore. Ciao! 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 Dai! Hai acqua Ale? D'attore! Sai! Tua sorella, porca troia! Fonico Fonico Presente, stanco, affaticato Ma tutto io da l'altro Una zocco Sì, è abbastanza Una zoccorina Prima giornata di Riprese, oggi sabato 20 luglio, ore Ore ragazzi Ore 1-10 12-49 Mirko Benedetta Angelica e Onora Siamo qua per dirvi ciò Che sta accadendo Come procede questa prima giornata di riprese E Arianna La padrone Oggi vi faremo una ricetta Uovo alla cracco Con crema bianca E un unico problema Ma va e viene il sole Il sole viene quando riprese E si muore dal caldo E' un filo di magro Ho sbagliato proprio tutto E poi